ciao a tutti e bentornati io sono paolo e come ogni giorno sono qui per presentarvi un nuovo episodio dell'italiano in podcast il mio spazio quotidiano per il blog i speak italiano vi invito come sempre a leggere i contenuti di questo blog credo che ci siano delle cose interessanti e anche utili per voi che studiate l'italiano e che volete fare un po di pratica con la lingua l'italiano in podcast è arrivato alla puntata numero 8 mentre l'anno più pazzo del nuovo millennio è arrivato al 9 settembre oggi è mercoledì ed è stata una giornata molto calda come tutte le ultime tre o quattro giornate per me è iniziata molto presto perché oggi sono andato a casa di mia madre lei aspettava un infermiere per fare un prelievo di sangue qui in italia quando le persone raggiungono un'età molto anziana come quella di mia madre e quando hanno bisogno di controlli periodici cioè quando è necessario fare degli esami durante l'anno più volte per controllare la situazione è possibile richiedere l'aiuto di un infermiere a casa quindi c'è un gruppo di infermieri di persone che si occupa di fare questo tipo di assistenza domestica cioè a casa delle persone per evitare insomma fastidio a queste persone anziane di spostarsi e di andare in un ospedale di andare in un centro per le analisi cliniche e per insomma fare in modo che loro abbiano sempre un'assistenza completa e possano avere la loro salute sotto controllo quindi questa mattina sono stato a casa di mia madre per aspettare questo infermiere e fare questo prelievo del sangue un prelievo un po diverso dal solito perché si trattava di prelevare del sangue arterioso cioè del sangue che si trova nelle arterie e non nelle vene il tipo di prelievo di sangue più comune è quello delle vene ma come sapete una arteria è più difficile da raggiungere di solito è più in profondità nel nostro corpo e quindi questo può richiedere più tempo insomma è più è un po più difficile ma per fortuna tutto è stato molto rapido e tutto è andato bene domani probabilmente avrò risultati di questo esame di questo test e quindi non ci sono stati problemi la giornata poi è proseguita con una piccola uscita sono andato fuori per una passeggiata e per recarmi per andare al mercato orionale non so se molti di voi conoscono questa abitudine italiana in ogni città c'è un giorno dedicato al mercato orionale cos'è il mercato orionale è un luogo dove ci sono dei venditori ambulanti cioè venditori che non hanno un negozio fisso ma hanno dei furgoncini hanno delle auto furgoni per vendere le loro merci in luoghi diversi e in diversi mercati orionali ogni città ha un giorno specifico per questo e quindi in questi luoghi in questi mercati è possibile trovare un grande numero di merci diverse come vestiti cibo di qualunque tipo pesce carne formaggi salumi un po di tutto insomma è un mercato che di solito c'è in un luogo come un grande parcheggio un'area dedicata della città a questo scopo è una tradizione molto antica e quindi è possibile una volta alla settimana comprare delle merci anche del cibo soprattutto da produttori locali cioè da persone che lo producono vicino alla città insomma in cui c'è il mercato orionale nel mio caso sono uscito per acquistare delle cose al mercato del pesce io vivo in una città vicino al mare quindi ci sono anche dei pescatori che possono vendere in questi mercati e io volevo acquistare delle vongole sono sicuro che tutti voi conoscete questo tipo di prodotto del mare questo tipo di frutto di mare e ovviamente tutti sapete cosa facciamo di solito con le vongole in italia facciamo gli spaghetti alle vongole ed è questo il mio pranzo di oggi oggi mi sono goduto uno spaghetto alle vongole era molto tempo che non lo preparavo era molto tempo che non mangiavo questa cosa quindi quando mi sono alzato presto ho pensato subito a questa cosa di andare al mercato e comprare delle vongole per gustarmi questo tipo di spaghetti è importante andare presto perché ovviamente questo tipo di mercato inizia molto presto al mattino e soprattutto per i prodotti del mare il pesce è molto facile che tutto finisca in poche ore quindi è necessario andare più presto per trovare le cose migliori e le cose più buone da comprare questa un po la mia giornata durante la mattina e il pranzo nel pomeriggio non sono più uscito come di solito faccio per una passeggiata ma ho preferito restare a casa era un po caldo e avevo molte cose da fare quindi ho deciso di non uscire mi sono occupato di alcune cose per il blog e ho fatto anche qualche piccola lezione come tutor durante il resto della giornata come sempre una giornata quindi tranquilla senza cose molto particolari ma allo stesso tempo molto impegnata con il lavoro per quanto riguarda invece la giornata dell'italia le notizie sono più o meno sempre sul coronavirus quelle principali c'è sempre una leggera crescita dei nuovi malati oggi purtroppo anche dei morti e di persone che hanno bisogno della terapia intensiva però in tutto questo il nostro presidente del consiglio giuseppe conte assicura cioè promette un po che la scuola riprenderà il 14 settembre come previsto nonostante ci sia questo aumento di malati quasi ogni giorno nonostante le notizie dal resto dell'europa non siano molto buone in francia si si parla di misure eccezionali già perché il livello di contagio è diventato davvero molto alto ma qui da noi sembra che il governo sia convinto di poter garantire la sicurezza nelle scuole e anche insomma nelle grandi città senza troppi problemi la buona notizia è che finalmente è arrivato un test che si può effettuare con la saliva della bocca in italia è stato autorizzato l'uso di questo nuovo test che in soli tre minuti ci può dire con una buona precisione se abbiamo il virus o no questa è davvero una buona notizia perché chiaramente si può subito controllare se una persona è positiva o no questa è una delle cose più importanti insieme a un vaccino ovviamente è una cura perché la possibilità di fare dei test veloci aiuta a individuare subito dei focolai delle zone in cui c'è un contagio pericoloso insomma sono molto contento di questa notizia perché è un modo facile per controllarsi e non è complesso come un tampone quindi tutti noi potremo finalmente sapere se abbiamo problemi o no in modo molto semplice fra poco questo prodotto sarà disponibile nelle farmacie credo ed è stata autorizzata la produzione infatti quindi una buona notizia da questo punto di vista sul problema covid per quanto riguarda altre notizie interessanti oggi il parlamento il senato italiano ha approvato una modifica abbastanza importante secondo me riguarda il modo in cui si elegge il senato italiano fino a ieri potevano votare i senatori solamente i cittadini con un'età maggiore di 25 anni questo era un sistema presente nella costituzione era un po' una garanzia di eleggere dei senatori in un modo un po' più maturo nel senso che si voleva creare un senato eletto da persone un po' più adulte questa cosa è cambiata finalmente secondo me quindi molto presto forse già dalle prossime elezioni per il parlamento anche i ragazzi di 18 anni potranno partecipare all'elezione del senato credo che questo nuovo sistema possa portare dei cambiamenti al tipo di persone che vengono elette senatori o senatrici ma ovviamente bisogna aspettare e vedere alle prossime elezioni cosa succederà per quanto riguarda le altre notizie direi che è un po' tutto per oggi non ci sono cose troppo importanti su cui discutere come sempre una giornata abbastanza monotona e quindi direi che è arrivato il momento di regalarvi il mio aforismo della giornata la frase quotidiana con cui di solito vi lascio per oggi è una frase molto breve secondo me molto intelligente anche di un altro famoso personaggio italiano e che sono sicuro potrete scoprire con molta facilità la frase della giornata è questa la vita è un'attesa tra un esame e l'altro come sempre io non commento l'aforisma del giorno e vi lascio riflettere su quello che vi ho detto la giornata quindi finisce proprio qui fra circa mezz'ora io sarò già a giovedì non mi resta che salutarvi come ogni giorno vi do appuntamento a domani spero che tutti voi abbiate una buona giornata e spero che siate sempre tanti siate sempre di più a seguirmi con le nuove puntate con i nuovi episodi dell'italiano in podcast per il momento sono abbastanza soddisfatto dei risultati ma chiaramente spero sempre di ottenere risultati migliori come tutti noi quindi per oggi è davvero tutto ci sentiamo domani ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti